La bellezza salverà il mondo, scriveva Dostoyevsky nell'Idiota, romanzo completato a Firenze, culla della grande arte italiana. Lì dove in accademia si è sviluppato il talento di Elide Kabassi. Nata vicino a Brescia e cresciuta nel Monferrato, ultima di dieci fratelli, padre minatore e madre sarta, Elide vive da più di 28 anni in Russia, un paese di cui si è innamorata. Io amo molto nella persona russa l'umiltà, cioè il popolo russo è un popolo umile e questo mi ha molto aiutato, mi ha molto levigato il mio carattere, mi ha anche una certa pacatezza e poi certamente l'incontro con le icone russe è stato forse l'incontro più importante alla fine. Finestre sul sacro all'interno di chiese antiche come a Pskov. Tutto il nord della Russia c'è questa architettura sacra che a me è proprio entrata nell'anima e ha veramente trasformato la mia pittura, la resa più laconica, più essenziale, questo orizzonte bianco sempre lontano, queste chiese bianche, questa presenza del colore bianco e soprattutto della luce bianca. L'influenza dell'arte bizantina è perinascimentale ma anche l'astrattismo. La pittura come un varco, esplorazione del limite, luoghi di confine è il titolo della retrospettiva organizzata a Mosca con il patrocinio dell'ambasciata e la collaborazione dell'istituto italiano di cultura. Sono opere che fanno molto meditare, ci fa vedere le cose importanti e quali sono le cose da lasciar perdere. È molto profonda come pittura. Una vita tra Italia e Russia, ma i confini non sono solo geografici. Anche la vita nostra è sempre sul confine, tra vita e morte. Siamo sempre al confine tra la luce e la tenebra, tra il bene e il male. Unica pittrice italiana in Russia da quasi 30 anni, Elide ha vissuto in prima persona gli avvenimenti storici che hanno stravolto e cambiato la sua patria di adozione. Gli anni 90 sono stati forse gli anni anche più difficili per certi aspetti, perché c'era un'anarchia totale, la persona non aveva nessuna difesa e in questo senso alcune cose sono cambiate in meglio. Poi certo c'è questa era putiniana che è stata positiva secondo me all'inizio, ma che ora si è trasformata in un qualcosa di morto. È come se non volesse lasciare emergere in questo popolo le sue forze più belle, anche più di movimento, più giovani. La bellezza è intesa anche come impegno politico, valore etico oltre che estetico. Per questo Elide ha creato a Mosca un laboratorio artistico all'interno di un orfanotrofio. Ho sempre cercato di trasmettere ai miei alunni, ai ragazzi, ai bambini il senso della bellezza che si può avere da questo mondo. Tutti hanno bisogno della bellezza, qualsiasi persona, però ci sono luoghi, i luoghi della solitudine, della sofferenza, dove la bellezza è veramente necessaria. Per cui questo è stato il motivo fondamentale che mi ha fatto prendere questa decisione. Così, dieci anni fa, un bel giorno, ha bussato alla nostra porta questa italiana, una donna affascinante. Diceva di volerci aiutare insegnando a disegnare i nostri ragazzi. E anche lei crede che la bellezza possa essere una medicina? Certo, non solo può esserlo, lo è di sicuro. Mi rendo conto che non tutti gli allievi di Elide potranno diventare artisti famosi, ma l'arte nobilita l'uomo. E vedo che così i ragazzi si aprono e diventano più buoni. Valodia mostra con orgoglio i tradessi fatti. Questo è un ritratto di me e della mia ragazza, stiamo molto bene insieme. Lei si chiama Nastia e la amo molto. Questo quadro l'ho fatto per lei e vorrei regalarglielo, spero tanto, che le piacerà. Anche i quadri degli allievi di Elide sono stati esposti in una mostra parallela. Spero che con il suo aiuto io possa continuare a migliorare e magari un giorno diventare anche un artista. Grazie Elide.